Sì, grazie Presidente. Oggi con questo disegno di legge e con l'approvazione qui al Senato veramente facciamo un passaggio in avanti anche nella civiltà con la previsione in particolare di questa aggravante che chiamiamo di sciacallaggio. La parola sciacallaggio però ricordiamo non è citata nel testo. Chiaramente siamo di fronte a quello che è un fenomeno odiosissimo, un fenomeno odiosissimo di chi approfitta della disgrazia per rubare, appropriarsi di beni di persone, di famiglie che si vedono distrutto veramente tutto e che hanno perso tutto in alcune occasioni negli episodi che abbiamo anche visto, abbiamo visto purtroppo anche recentemente sui nostri schermi televisivi e sui nostri giornali. Lo abbiamo visto, abbiamo visto con i nostri occhi che si trova veramente la propria vita sparpagliata su una strada e quindi di fronte a quello che è il dramma che è conseguente a un evento anche meteorologico devastante si unisce anche a questo dolore di vedersi sottratti quelli che sono magari questi nostri beni che sono all'interno delle nostre case magari degli oggetti di valore economico ma anche spesso oggetti anche di valore affettivo. Tenendo conto poi che questi eventi eccezionali che dovrebbero essere eccezionali delle calamità naturali purtroppo stiamo vedendo che non sono più nemmeno degli eventi così rari come abbiamo avuto modo, ripeto, soprattutto purtroppo di vedere anche recentemente. L'importante però questo disegno di legge è che non parla solo dell'aggravante cosiddetta dello sciacallaggio che vorrei anche che fosse anche chiaro come chiaro è stato anche il relatore Potenti a cui va anche un ringraziamento per il lavoro che ha svolto. Perché è previsto nel disegno di legge un aggravante, si dice l'aggravante generiche, quindi un aumento della pena di un terzo nel momento in cui il soggetto ha agito profittando di queste pubbliche calamità. Come avrebbe potuto profittare magari anche della minorata difesa, come aver approfittato anche di circostanze di tempo e di luogo. Ma non è solo il tema di questo aggravante che è previsto in questo disegno di legge. Il disegno di legge fa un passo in avanti e prevede che nel caso del furto in abitazione, un furto con strappo, quindi noi stiamo parlando di furti, di ipotesi di furto che sono ripeto anche particolarmente fastidiosi e purtroppo anche molto frequenti e lo vediamo nelle nostre croniche giudiziari. Cosa prevede il disegno di legge? Il disegno di legge prevede un aumento della pena ogni qualvolta il furto in abitazione o lo furto con strappo venga eseguito in concorso con una circostanza aggravante di quelle generiche. Quindi questo aumento di pena c'è ad esempio nel momento in cui si è adoperato sevizi, di aver agito con crudeltà verso le persone, di aver provocato un particolare danno, tutte quelle che sono elencate nell'articolo 61 del codice penale. E qui abbiamo un chiaro aumento di pena. Dopodiché l'importanza è di prevedere nelle circostanze, se dicono, speciali, le aggravanti speciali sul diritto di furto, questo nel 625. Che dice cosa? Dice che nel momento in cui il furto viene eseguito profittando appunto a queste circostanze di calamità naturale vi è un aumento deciso di pena. Ma l'importanza è che questo aumento deciso di pena ed è un aggravante che non va bilanciata, si dice, con le attenuanti. Quindi non c'è la possibilità di fare un riequilibrio fra le aggravanti e le attenuanti. Come per dire, qui di sicuro c'è la circostanza aggravante. Sono dei passaggi importanti, quindi non è che viene introdotto un nuovo reato. Quindi sono delle circostanze che se si realizzano comportano degli aumenti di pena. Ora, abbiamo sentito anche i colleghi che mi hanno preceduto sul tema del panpenalismo, sulla previsione di nuovi reati. Ecco, questo non rientra in questo caso. Ma se noi vogliamo dire, noi della Lega abbiamo deciso una linea, una politica anche sui temi della giustizia. È una politica quella sui temi della giustizia che va chiaramente verso un senso di particolare rigore e dell'applicazione delle norme con particolare rigore. Quindi siamo stati d'accordo con l'introduzione del reato della rei di pata, siamo stati d'accordo su tutti i temi che sono adesso discussi anche nel decreto sicurezza. È chiaro che chi accusa di contraddittorietà forse non percepisce la differenza che c'è fra una forma di rigorismo sul lato del diritto sostanziale e invece un particolare garantismo sul lato procedurale, cioè come viene applicata la pena. Noi siamo sicuri e siamo certi che la pena, abbiamo sempre detto che la pena deve essere certa, ma la pena deve essere anche rigorosa, perché non può non avere comunque un effetto disincentivante. È chiaro che poi nell'applicazione occorre tenere conto di tutte quelle che sono le circostanze, tutto quello che riguarda anche la vita stessa della persona. E per questa ragione che anche abbiamo visto con favore tutti i provvedimenti che sono stati adottati anche da questo governo sul tema anche delle carceri, sul tema dei carceri minorili, su anche delle nuove soluzioni che stiamo cercando di approntare per fare sì che si superi un gap e un ritardo molto grave proprio sul gestione delle stesse carceri. Quindi noi siamo ancora col governo e votiamo quindi a favore di questo provvedimento perché siamo certi, siamo sicuri che avere uno Stato italiano, un modo di vita anche all'interno dell'Italia rigorosa e rispettosa delle leggi sia un modo veramente per avere una società di giustizia. Grazie Senatrice Stefani.